Buonasera, il tema che tratterò è poteroso, se riuscirò a tenermi nei tempi magari farò poi una piccola appendice riguardante il problema del referendum, quello che tanto ha richiamato l'attenzione con la Brexit, quindi adesso parto con il tema principale, che i trattati europei siano contrari alle norme fondamentali e inderogabili della nostra Costituzione, c'è una liquida di norme inderogabili della nostra Costituzione, dovremmo saperlo, dice la Corte Costituzionale, non è una cosa difficile da dimostrare, tuttavia per comprenderlo occorre un'illustrazione che sappia coniugare principi giuridici e principi economici, non difficilissimi, diciamo che sono quelli base dell'economia e anche quelli base del diritto costituzionale, ma che da diciamo circa 30 anni sono oscurati dal dibattito politico e dai media italiani, quindi gli italiani non sono più in grado di manipolare, di avere o meglio a disposizione una certa sintassi e un certo linguaggio. La forte difficoltà a integrare appunto il piano giuridico costituzionale e quello scientifico economico è anche alla base della difficoltà estrema della nostra Corte Costituzionale a riuscire a sindacare i trattati e le fonti europee con un atteggiamento che è esattamente l'opposto di quello che tiene la Corte Costituzionale tedesca. Cito una prassi tedesca, ogni volta che si fa un trattato generale dei vari stati, dei vari step dell'Unione Europea, prima si chiamava in un altro modo, loro la rimettono perché hanno un ricorso diretto, un accesso diretto alla Corte che sarebbe preziosissimo in Italia da introdurre, la rimettono alla Corte e la Corte dice a quali condizioni, sono sempre appone delle riserve, cioè delle limitazioni alla portata dei trattati unilaterali al di fuori di quelle che sono le procedure ammesse dal diritto dei trattati. Sa di fatto che la Corte Costituzionale tedesca afferma costantemente che qualsiasi fonte europea è subordinata all'interesse nazionale costituzionalizzato tedesco e al vaglio del Parlamento tedesco. Allora per comprendere, per riassumere il senso dell'incostituzionalità dei trattati ci sono una quantità enorme di argomenti che prima ad una certa epoca, diciamo fino a 15-20 anni fa erano dominio comune dei costituzioni e gli sti poi sono scomparsi quasi del tutto dal dibattito. Il più semplice è la contrarietà all'articolo 11 della Costituzione perché sarebbe non consentito l'adesione a un'organizzazione internazionale che a differenza dell'ONU e a differenza della NATO nel contesto geopolitico in cui nacque non abbia una diretta finalità, una diretta correlazione con la pace e la giustizia fra le nazioni. Inoltre quando un'organizzazione internazionale di tipo economico, sostanzialmente libero scambista, dichiaratamente libero scambista impone crescenti e penetranti vincoli sulla sovranità monetaria fiscale quasi di ogni genere se vogliamo segmentare la sovranità di uno Stato nazionale ma nella cornice libero scambista opera l'acceleratore di quello che è la teoria o la legge dei vantaggi comparati, cioè si crea automaticamente una gerarchia fra gli Stati, una gerarchia che è iniziale perché se si fa un trattato libero scambio vuol dire che c'è una parte forte che ne impone il contenuto alla parte debole e l'applicazione del trattato tenderà a cristallizzare e ad divaricare ulteriormente le gerarchie, cioè l'ordine di forza iniziale viene ulteriormente dilatato. Allora il problema della riconduzione a legalità costituzionale di un trattato ha due vie, semplicissime, o esco oppure come si dice nel linguaggio dei contratti lo riconduco a equità in qualche maniera. La prima soluzione è diciamo politicamente molto dibattuta ma insomma sembra quasi che esista un terrore, tanto è vero che il Brexit che è molto meno di quello che dovremmo fare noi perché è di un paese che non sta nell'euro ha portato a un terrorismo non solo diciamo propagandistico, mediatico, non solo nel Regno Unito ma anche in Italia, tuttora è in corso. Vediamo se è praticabile la via della riconduzione a equità. Beh questo è un problema che si scontra con la realtà, cioè con la concreta volontà politica dichiarata dagli stati più forti che appunto ulteriormente rafforzati dall'applicazione dei trattati, in base a quello che abbiamo detto prima, hanno sostanzialmente un potere di veto assoluto su cui non hanno alcuna motivazione negoziale per tornare indietro. È completamente privo di realismo che la Germania che attraverso tutta la serie di pronunce che vi ho detto ha affermato esplicitamente questo. L'Unione Europea è solo un'organizzazione fra stati, come tale non potrà mai sfociare in un'unione politica, federale, di bilancio eccetera eccetera, perché questo non è consentito dalla nostra Costituzione. Sarebbe un atto extra costituzionale per voi, quindi non si fa. Quindi non credo che ci sia qualcuno che oggi può imporre ai tedeschi di mutare addirittura la loro Costituzione per poter mutare un atteggiamento negoziale riguardo a modifiche che loro vedono giustamente come a sé sfavorevoli e che sono modifiche delle norme che loro hanno considerato essenziali per entrare nel trattato. Ve le cito tre che spesso sono trascurate sono gli articoli 123, 124 e 125 che non dicono che non si possa fare soltanto un'Europa solidale con il bilancio federale, non dicono soltanto questo, dicono che è vietato, è il divieto più assoluto specificato in tre lunghe norme sulla base del quale la Germania non avrebbe neanche aperto il negoziato per entrare in Europa. E che cosa rimane da fare allora? Il problema divene essenzialmente politico e quindi è un problema di coraggio e di chiarezza di visione della democrazia. Sul piano giuridico ed economico non ci sono ostacoli veramente insormontabili. Però noi possiamo adottare un approccio fenomenologico la più macroscopica, la più manifesta incostituzionalità, cioè violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento deriva dall'aduzione della moneta unica. Quindi noi non dobbiamo sottoporci all'intero processo che per gli inglesi è stato facile perché non stavano nell'euro, dobbiamo procedere in un'altra maniera. Uscire dall'euro senza uscire dall'Unione Europea è giuridicamente possibile, la risposta è senz'altro positiva. È economicamente possibile, la risposta è altrettanto positiva sia per le analisi economiche predittive fatte dai più seri fra gli economisti nazionali e internazionali. Sia perché consentirebbe l'uscita dalla moneta unica un dato fondamentale, il ripristino di fondamentali poteri di politica economico-fiscale che il governo italiano recupererebbe alla luce delle stesse previsioni dei trattati. L'Unione monetaria alla luce delle disposizioni fondamentali dei trattati infatti è un istituto, l'Unione monetaria, l'euro, è un istituto auspicato ma non giuridicamente costitutivo dell'Unione Europea. Cioè si può avere tranquillamente il perfetto status di membro, di stato membro, di appartenente all'Unione Europea senza aver assunto alcun obbligo di entrare nell'Unione monetaria. Tanto è vero che coloro i quali non sono ancora entrati non entrano, non c'è nessuna autorità, istituzione che possa richiamare una norma del trattato per dirgli devi entrare. Non stanno entrando. Alla stessa maniera il Regno Unito ha fatto un opt in out ed era pienamente, è tuttora per la verità, pienamente membro dell'Unione Europea e nessuno si è stupito di questo e ha dubitato che fosse un membro dell'Unione Europea. Allora perché si può uscire dall'euro? Perché l'adesione alla moneta unica in base alle norme, l'articolo 139 e 140, sono due pletoriche norme ma è facile analizzarla, anche Guarino ha fatto un'analisi praticamente collimante con la mia, l'adesione all'Unione è quello che viene chiamato un atto ammissivo, un atto ampliativo, cioè viene considerato come una specie di beneficio, io ti faccio un piacere facendo di entrare nell'Unione, perché tu entrerai in un club e diventerai lì come farai tanti affari e poi se poi non succede, beh se poi non succede io dico al club, al circolo, cari amici io ho versato la quota ma scusate preferirei non esserci. Quindi è sufficiente una dichiarazione, cioè tutto il procedimento di adesione è sottoposto costantemente in ogni sua fase alla regola della manifestazione reiterata di volontà adesiva dello Stato. La stessa deliberazione finale è soggetta a un principio di unanimità, guardate che questo è un particolare non usuale nei trattati all'unanimità dei deliberanti incluso lo Stato richiedente, quindi il venir meno della sua volontà fa mancare automaticamente, per il principio del contrario, sactus, l'ammissione. Io rinuncio a un beneficio, così come posso rinunciare a un'autorizzazione edilizia o una licenza per vendere alcolici. Allora, secondo lo stesso regime di adesione contenuto nei trattati, qualsiasi Stato può liberamente revocare il proprio consenso costitutivo del suo status di paese membro la cui moneta è l'euro. Guardate, se chi è interessato, le stesse istituzioni dell'Unione Europea, consapevoli di questo quadro autoritativo, più volte hanno fatto questa ammissione, salvo che poi quando qualcuno gliel'ha fatto notare hanno fatto poi delle smentite ma non hanno saputo indicare in base a quali norme loro smentivano questa ammissione. Cosa succede? Succede che per il principio di analogia allo Stato che sia uscito si applica quello che si chiama il regime del paese con deroga, che è previsto dall'articolo 139, con degli aggiustamenti che andrò a illustrare. I vantaggi di questa acquisizione di status di paese con deroga, che sostanzialmente è un opt-in-out tipo quello che hanno originalmente fatto i britannici, con in più la caratteristica di essere fuori usciti, cioè di aver vissuto l'esperienza e di aver provato che l'esperienza liberamente intrapresa, altrettanto liberamente irrevocabile. Allora, questo per farvi capire quale sarebbe il quadro che un governo, che lo Stato italiano si troverebbe a fronteggiare una volta che avesse manifestato questo suo diritto potestativo, previsto dai trattati, cioè l'antricinima dei trattati lo prevede implicitamente ma necessariamente. Sottrazione al regime sanzionatorio, cosiddetto vincolante per disavanzo eccessivo. Quindi neanche più il limite del 3% è veramente sanzionato, perché non c'è la sanzione vincolante. Andatevi a vedere la sequenza storica dei deficit dei paesi non aderenti alla moneta unica. Sottrazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche concernenti, esensi dell'articolo 121,2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, i paesi aderenti all'euro, cioè le famose deliberazioni dell'euro gruppo, quelle di cui la Grecia sa qualche cosa, quelle che possono giustificare su un piano astratto la lettera della BCE dell'estate del 2011. Sottrazione, non sei nell'euro, non lo possono più fare, o meglio lo possono fare informalmente, ma non è qualcosa che è giuridicamente più vincolante. A ciò va aggiunta la sottrazione all'obbligo di perseguimento del target inflattivo del 2%. Ovviamente l'inconveniente di superare il 2% fuori dall'euro, per un fatto che vorrei ricordare, è l'esigenza assoluta di svalutare i tassi di cambio reale che esistono anche interno della moneta, è evidente. Quindi è perfettamente, non ci sarebbe nulla di male se. Comeppure la sottrazione, questo è importante, ci sarebbe la sottrazione automatica al sistema di vigilanza sul bilancio che è stata concretizzata, formalizzata nel Tupax, ma risale, se voi andate a vedere i giornali, risale a molti, cioè praticamente a dopo Maastricht. Nonché alla nuova autorità particolarmente insidiosa che si chiama lo European Fiscal Board, che è un organo apparentemente tecnico ma che ha praticamente la licenza di riscrivere totalmente le leggi finanziarie, le leggi di stabilità. La sottrazione ha lo stesso obbligo incondizionato di adeguamento della disciplina della propria banca centrale, perché gli articoli 130 e 131 che prevedono qual è il regime europeo della banca centrale, hanno come sanzione per l'inadempimento la mancata ammissione alla moneta unica. Pensate il paradosso, non c'è un vero sistema sanzionatorio, andatevi a vedere come è andata la vicenda della modifica che ha fatto Orban del regime della Corte Costituzionale Costituzionale Ungherese, che tra l'altro era in Costituzione, quindi è stata una modifica costituzionale. Quindi il problema è che si può rivedere il regime della banca centrale, si riconquisterebbe innanzitutto una banca centrale nazionale, avendo una propria moneta qualcuno dovrà avere il potere di emissione e regolazione della politica monetaria, se debba essere indipendente o no dal governo, è un altro discorso, può essere modulato con discrezionalità in base alle esigenze democratiche di ciascun paese nazionale. In generale vi risparmio ulteriori disquisizioni su altre normative applicabili, perché la ricerca che ho condotto si basa sul fatto che non sento purtroppo parlare dei trattati dagli espertologi televisivi fino alle dichiarazioni delle stesse istituzioni europee o dei vari governi, non sento parlare dei trattati in base alle dichiarazioni di qualcuno che pare di averli letti, o se li ha letti non li ha compresi, perché ripeto bisogna coniugare capacità non eccelse, ma comunque un certo impegno di capacità economiche e giuridiche. Inoltre, sottrazione al fiscal compact. Andatevi a leggere l'articolo 14, paragrafo 5 del famoso trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'unione economica e monetaria, i paesi con deroga, i paesi che non sono dentro l'unione monetaria, non hanno più il fiscal compact. Fine della storia. Non abbiamo né la sanzione vincolante sul 3%, né tantomeno l'obbligo di raggiungimento al pareggio di bilancio, salvo dover interpretare l'articolo 81 della Costituzione, che a mio parere è affetto da incostituzionalità interna rispetto ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Sottrazione, inoltre, andatevi a vedere, questo è palese, se la mettete su qualsiasi sito della Commissione europea, unione bancaria, l'unione bancaria non si applica ai paesi non aderenti all'euro. A questo, e vado rapidamente a concludere, si aggiunge come effetto dell'acquisizione di questo status atipico, in base all'uscita dall'euro, di paese con deroga, si aggiunge tutta una serie di mutamenti delle condizioni di applicazione di vastissimi poteri che hanno le istituzioni europee. Ad esempio, abbiamo visto nel caso dell'unione bancaria quanto incida, ma ne sa qualcosa pure all'Italia, per capirci, il divieto degli aiuti di Stato. Il divieto degli aiuti di Stato che ha una serie di eccezioni e di deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107. Andateli a vedere, sono casi che secondo il buonsenso si sono ampiamente verificati negli ultimi anni e quindi si sarebbe potuto invocare. Ma noi non potevamo fare aiuti di Stato, non perché non ci fossero i presupposti per provare a aprire la questione, ma perché noi eravamo soggetti ai vincoli di riduzione del deficit fino al pareggio di bilancio, quindi sì, lo Stato vorrebbe pure aiutare, ma non c'ha i soldi per farlo, quindi le imprese rimangono a bocca asciutta. L'impresa, l'occupazione, la ricerca, tutto questo rimane a bocca asciutta. Non soltanto, ma sarebbe completamente mutato il quadro del regime eccezionale di deroga previsto dall'archivolo 108, che è ancora più ampio in materia degli aiuti di Stato e che riguarda non solo i casi di grave turbamento dell'economia, ma le politiche territoriali per le zone disagiate del Paese. In questo tema, autonome politiche territoriali giustificanti le eccezioni al quadro complessivo degli obblighi del mercato unico, sono altrettì previste dall'articolo 27 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Andatevelo a leggere, perché io ho trovato questa norma scartabellando tutti gli allegati. L'articolo 27 è un contenuto che coincide con una famosissima, ma ormai dimenticata, dichiarazione numero 49 allegata ai trattati, che nasce ancora prima di Maastricht e che è stata costantemente riprodotta fino al Trattato di Lisbona, il che significa che se è stata riprodotta la volontà delle parti è sempre stata quella. Cosa dice questa dichiarazione 49? Che per quanto riguarda i limiti del deficit si deve tener conto delle differenze di sviluppo delle varie aree italiane e che si sarebbe dovuto tener conto degli sforzi dell'Italia per risanare i problemi derivanti da questo in termini di liquidità e di crisi eventuali della bilancia dei pagamenti. A questo riguardo va ricordato che sempre il Paese in deroga è sottratto al, diciamo, anzi o meglio riconquista le clausole previste dagli articoli 143 e 144 sempre del Trattato, che riguardano i poteri straordinari che possono essere concordati con la Commissione e con l'adesione del Consiglio in caso di grave crisi della bilancia dei pagamenti, nonché possono essere unilateralmente decisi quando la crisi sia particolarmente grave ed improvvisa. E in quel caso un Paese che non sta dentro l'Euro ha un margine di azione evidentemente enorme, non ha bisogno per apprestare tutti quegli strumenti che sono strumenti di razionamento, come diceva Federico Caffè. Questa norma era stata applicata ai tempi del Trattato del 57, del Trattato di Roma, in una maniera molto ambigua perché noi non abbiamo fatto mai valere questa clausola, preferendo sempre, e questo si è verificato nel 77, si è verificato nell'81 e si è verificato pure nel 63, farci dettare delle condizionalità, cioè per usare i poteri previsti da quelle norme che equivalgono agli articoli 143 e 144 per i Paesi non aderenti all'Euro, che consentono misure di salvaguardia in caso di grave crisi della bilancia dei pagamenti, noi per invocare questa norma, sempre, questo diceva perlomeno Federico Caffè, ma lo diceva pure Graziani, un altro economista importante recentemente scomparso, abbiamo invocato una lettera della Commissione Europea. Pensate che il governo Moro del 63 cadde per una lettera della Commissione Europea. Nel 77 e nell'81 sul vincolo del bilancio dei pagamenti e sulle politiche che si dovessero introdurre e che culminarono nel divorzio Tesoro-Banca d'Italia, altra lettera della Commissione Europea. In sostanza per dare una definitiva risposta al problema che siamo posti è questo, in questo quadro la progressione deve passare per la facoltà, per la libera facoltà aspettante agli Stati, di poter non più aderire alla moneta unica. Questo ripristina un ampio spettro di politiche economiche fiscali e di interesse nazionale, di cui c'è tanto bisogno, perché la situazione economicamente è insostenibile, l'Italia sta letteralmente frantumandosi, chiunque di nuovo può testimoniare, io l'ho testimoniato adesso cercando di arrivare in questo convegno, prendendo il treno, non vi racconto i dettagli. Però quindi questi poteri darebbero un vantaggio, rafforzerebbero l'economia, rafforzerebbero la coesione sociale, rafforzerebbero il consenso di qualsiasi governo, perché qualsiasi governo, persino Prodi, che pure predica certe politiche, andate a vedere i giornali del 2007, ha detto a Renzi che qualsiasi governo in due anni perde del consenso. Certo, perché non fa le politiche di interesse nazionale, fa le politiche dettate dal vincolo esterno. Il vincolo esterno ha preso un pochettino la mano, diciamo. Una volta che si è riconquistata questa forza, la salute democratica del Paese, si avranno sicuramente l'attualizzazione e l'ampliamento degli spazi negoziali per arrivare a rinegoziare il trattato, senza dover essere soggetti a ricatti. Con questo, salvo i numerosi allegati che poi consegnerò alla direzione, all'organizzazione, avrei terminato di trattare il mio tema. Un ultimo accenno al referendum. Il referendum, ci si lamenta che non si può fare il referendum perché l'articolo 75 della Costituzione non consente il referendum abrogativo sui trattati internazionali. Scusate perché gli inglesi hanno fatto un referendum abrogativo, hanno fatto un referendum consultivo. Giusto? Allora evidentemente non si può fare un referendum abrogativo sui trattati internazionali perché è contrario al pacta su un servanda, cioè nessuno tratterebbe più con l'Italia se noi potessimo fare una cosa del genere. È evidente che tu puoi fare un referendum consultivo o preventivamente alla ratifica e non è previsto e forse là si può intervenire ma è in materia difficile da comprendere. In realtà i trattati economici sono quelli che portano i veri pericoli. Ma infatti l'articolo 11 della Costituzione non consente i trattati economici e le organizzazioni internazionali che limitino la sovranità, anzi che comportino cessioni. Le cessioni di sovranità non sono consentite dall'articolo 11 della Costituzione. Non perché organizzazioni di tipo economico comunque. Allora, ma se io posso fare una legge costituzionale per fare un referendum consultivo vuol dire che ho una fortissima maggioranza. Se non avessi una fortissima maggioranza, cioè due terzi, dovrei fare un referendum sulla possibilità di fare un referendum consultivo per poter far approvare la legge costituzionale. Un controsenso, ma dal momento che io ho la forza di far approvare un referendum consultivo vuol dire che sono al governo. Se sono al governo ho tutti i poteri e le facoltà di cui vi ho parlato prima, e cioè ho la facoltà di fare l'interesse nazionale nei limiti e fondandomi sulle norme già esistenti nei trattati e nei principi del civiltà del diritto internazionale. Grazie.